All'inizio avevamo dei dubbi perché non sapevamo se avremmo potuto realizzarla, purtroppo nel 2020 è dovuta saltare, nel 2021 ci abbiamo provato. All'inizio eravamo un po' scettici perché non pensavamo ci fossero tante adesioni, invece alla fine è stata una cosa incredibile perché siamo stati oberati di lavoro, felicemente oberati di lavoro perché sono arrivate addirittura 372 domande, quindi video, che abbiamo dovuto selezionare. Da 16 paesi di tutto il mondo è stato un successo per noi inaspettato e quindi in questo caso Pesaro non poteva andare all'estero con l'orchestra, sono saltate tournée, festival, tante cose, fortunatamente l'estero da 16 paesi sono venuti a Pesaro virtualmente e quindi siamo stati veramente soddisfatti. Abbiamo lavorato tanto ed è stata un'esperienza nuova anche per noi perché selezionare in streaming, cioè attraverso video i candidati è stata un'esperienza nuova per noi. Devo dire che il livello dei candidati è sempre altissimo, di solito sono gli stranieri più bravi, sono più preparati soprattutto dai paesi orientali, dalla Cina. Quest'anno abbiamo dei candidati che credo raggiungeranno il podio, forse vinceranno nelle diverse categorie e sono italiani. Un livello veramente assoluto italiano ma mondiale, quindi saremo lieti insomma di proporli, presentarli e farli conoscere anche al pubblico italiano questi candidati. La fascia d'età va dai 6 ai 25 anni e la tipologia del partecipante è a 360 gradi perché possono partecipare sia con le proprie scuole d'appartenenza, quindi le scuole pubbliche o paritari, private e quant'altro, oppure come anche privati cittadini, quindi qualcuno che si riconosce con un talento particolare vuole partecipare a prescindere dall'appartenenza o meno di una scuola di musica privata o di una scuola pubblica, come può essere una scuola primaria o una scuola superiore. 29 maggio appuntamento conclusivo. Sì, il 29 maggio alle 11 presso la Sala degli Specchi al Museo Nazionale Rossini ci sarà la premiazione in diretta streaming dove verranno decretati i vincitori di questa ottava edizione.